Questo grafico è l'andamento di quanti pazienti positivi attualmente ho in gestione e non ha bisogno di commenti, si vede da solo l'andamento della curva il contagio in costante aumento e fortunatamente adesso abbiamo a disposizione questo vaccino e speriamo quindi di poter vaccinare quante più persone nel più breve tempo possibile Lui è il dottor Rafi El Mazlom, 36 anni, medico di origine siriana di Mira e il figlio del camice bianco di medicina generale è venuto a mancare per Covid in Veneto il primo Era il 9 aprile 2020 La sua mamma, la dottoressa Samar Sinjab, 62 anni, veniva sottratta alla sua famiglia dal virus Il bastardo lo definisce lui che esattamente a distanza di 9 mesi dalla scomparsa si è fatto vaccinare anche per ricordare l'amatissimo genitore Mamma sicuramente fosse stata con me e non avrebbe visto l'ora di vaccinarsi anche lei Diciamo che, speriamo che ci sia qualcuno da sopra che veglia Non è un bel periodo diciamo, periodo molto duro Guardia Medica all'ospedale di Doro, nonché medico legale ha deciso di non abbandonare i pazienti della mamma e di continuare a seguirli esattamente come avrebbe fatto lei Le dico solo che quando l'abbiamo ricoverata quel sabato per esempio fosse il 6 o il 7 di marzo l'ultima parola che mi ha detto era mi raccomando, pensate ai miei pazienti non dire a nessuno questo male perché tanto torno a casa presto Ora nel vaccino ha la possibilità di poterci riabbracciare e baciarci come un tempo dice nel vaccino la dolcezza e la professionalità della mamma che è sempre curato i suoi pazienti affetti da Covid Ci sono altre alternative, abbiamo un vaccino che dalla letteratura che abbiamo dovrebbe funzionare effetti collaterali non dovrebbe darne secondo me è molto più rischioso non vaccinarsi e prendersi il Covid che fare un vaccino